Lo sai, prima che arrivassi tu, andava tutto incredibilmente bene. Te lo devo dire, questa apocalisse è stata troppo divertente. E' l'unico mondo che abbiamo mai conosciuto. Vedi, nel momento in cui tutti cominceranno a temerci, diventeremo regine. Regine con un regno da paura. Proprio come dicevo, troppo divertente. La fine del mondo è la cosa più bella che ci sia mai capitata.